La Ranieri International, rinomato cantiere italiano, produce una vastissima gamma di imbarcazioni, quasi 40 modelli di tante diverse tipologie, da 4 metri e mezzo sino a 10 metri. Oggi però il cantiere ha scelto di allargare la propria produzione con una serie di battelli pneumatici. I primi modelli sono il Cayman 19 Sport, il Cayman 21 Sport, il Cayman 23 Sport e il Cayman 23 Sport Touring. Il Cayman 21 Sport ha una lunghezza di 6 metri e mezzo. Quando siete indecisi sulla misura del gommone ricordatevi che anche pochi centimetri di carena in più possono fare molta differenza in navigazione. Il layout di coperta è molto interessante, vale la pena di osservare come abbiano sfruttato tutta la dimensione del battello. Sul musone di prua le gallocce sono sguardate nel modo corretto, il prendisole prodiero è piuttosto lungo e a poppa si può formare un'altra superficie dove rilassarsi reclinando lo schienale del divano. Ci sono 5 posti a sedere, 3 sul divano di poppa, 1 davanti alla console e il pilota può appoggiarsi a una struttura che può incorporare un frigorifero, una cucina e a un tavolo a ribalta. Il designer ha dato carattere a questo modello definendo le forme con linee tese e spigoli evidenti ma sempre smussati. Le camere d'aria sono 5 e hanno un diametro massimo di 60 centimetri, notevole per un mezzo di questa lunghezza. Il gavone di prua su questo esemplare e su tutta la gamma è completamente isolato dalla sentina così resta più asciutto perché è controstampato. Le imbottiture sono del tipo a cellula chiusa così non assorbono umidità. Il Cayman 21 può montare motori fino a 175 cavalli di potenza ma quello ideale probabilmente è il 115. Lo scafo entra in planata senza alcuno sforzo. 2600 giri minuto, 12 nodi. La scia ci dice che stiamo già navigando con il giusto assetto. C'è una nave che deve uscire, le facciamo spazio. È importantissimo usare il trim anche a velocità di crociera molto basse come questa, 20 nodi a 3600 giri minuto. In questa maniera si ottimizzano prestazioni e soprattutto consumi. E poi si naviga anche meglio perché resta perfettamente parallelo alla superficie. Corre sopra senza impattare nelle onde. È dolce, è piacevole. 4800 giri minuto, è un regime ancora di crociera e siamo a 30 nodi. Fantastico! Ok, adesso tenetevi che proviamo la velocità massima. Ok, non ha problemi di tenuta di rotta e facciamo 38 nodi. Diamo uno sguardo a un borgo marinaro molto carino qui appena fuori dal porto di Genova. Bocca d'atte! Tutta la gamma di gommoni Cayman Sport è costruita da Ranieri International con la stessa cura, gli stessi materiali, le stesse strutture di rinforzo che sono utilizzate per le imbarcazioni e cioè con processi produttivi che danno garanzie. Grazie a tutti!